Cambio della guardia al vertice del Panathlon Club di Lanciano. Si è svolta infatti la cerimonia per il passaggio del martelletto al nuovo presidente eletto Giancarlo Micolucci. Oltre ai soci del Panathlon lancianese che nei mesi scorsi ha festeggiato il quarantesimo anniversario della fondazione, hanno partecipato all'evento rappresentanze di diverse associazioni e società sportive del territorio con le quali il Panathlon Club ha collaborato in diverse iniziative nel corso degli anni e che sono state premiate per il loro impegno nel mondo dello sport. Nel suo discorso di insediamento il neopresidente ha ringraziato il suo predecessore Dante De Vincentis e poi ha ricordato lo scopo del Panathlon, quello di promuovere l'affermazione dell'ideale sportivo nei suoi valori morali e culturali come mezzo di formazione e di crescita della persona ma soprattutto solidarietà tra gli uomini e i popoli. Poi la classica cerimonia di passaggio del martelletto e tante iniziative, tanti i progetti per l'immediato futuro.